Ciao ragazzi, bentornati su Kiva International, io sono Daru Sanita e volevo condividere con voi una breve riflessione su un colloquio di lavoro che ho sostenuto ieri pomeriggio con un imprenditore americano. Grazie ad un progetto europeo sto partecipando appunto a questo scambio tra imprenditori e quindi mi recherò per tre mesi a New York. Quindi ho dovuto sostenere un colloquio ovviamente con l'imprenditore per capire se c'erano dei punti in comune. Una delle cose che mi ha sorpreso maggiormente è quanto l'imprenditore sia stato in grado di capire e farsi un'idea su di me nei primi sette secondi del colloquio. Ovviamente il colloquio è stato fatto su Skype e quindi tramite videochiamata. Ma anche lì è importantissimo la prima impressione che si dà alla persona. Infatti si dice esserci la regola dei sette secondi. Questi sette secondi sono fondamentali in quanto appunto una persona in qualsiasi occasione, che può essere anche ad un evento di networking come ad un colloquio di lavoro, si fa un'impressione su di noi. Quindi la cosa fondamentale è dare appunto una buonissima impressione di noi. E come farlo? Sicuramente ci sono tre punti fondamentali. Il primo punto è sorridere, il secondo punto è avere la capacità di far trasparire la voglia e la motivazione che ci sta dietro a questo nostro colloquio. Quindi quanto noi effettivamente vogliamo lavorare per questa persona o a contribuire appunto alla sua azienda. E il terzo ed ultimo punto fondamentale è sicuramente essere preparati. Infatti io ovviamente prima del colloquio mi sono andata a vedere il loro sito, sono andata a studiarmi bene che cosa facevano, di che cosa si occupavano, dove erano posizionati. In questo caso loro si trovano presso la sede delle Nazioni Unite a New York e questo mi ha molto ovviamente sorpreso, per cui magari ho la prima delle domande che ho fatto appunto all'imprenditore e per quale motivo si trovavano lì. Ovviamente questo ha fatto sì che l'imprenditore ha capito che io mi sono andata ad informare su di loro, che ho letto quello di cui si occupavano e questo gli ha fatto molto piacere. Ovviamente la cosa è andata a buon fine, sono molto contenta e quindi partirò appunto per questa esperienza di tre mesi, però volevo condividere con voi giusto qualche minuto questa mia esperienza, perché ho proprio notato quanto questi primi sette minuti effettivamente abbiano contribuito al successo del risultato finale, che era appunto questo scambio tra me e questo imprenditore new yorkese. Quindi se avete qualsiasi altra domanda a riguardo, spero che anche i vostri colloqui vadano alla grande e vi lascerò qua sotto tutte le informazioni per contattarmi per qualsiasi domanda e ovviamente good luck con i vostri futuri colloqui di lavoro.